salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video oggi andremo ad abilitare e fare la codifica per quanto riguarda la frenata d'emergenza cioè nel momento in cui noi stiamo sull'autostrada oppure su una strada abbastanza scorrevole ed alta velocità e andiamo a frenare andiamo a attivare la funzione che mentre noi freniamo di sbotto comunque all'improvviso si attiveranno sia i freni per normalmente posteriori in più lampeggeranno anche i freni posteriori in più si attiveranno anche le frecce posteriori così da avvertire a chi ci segue dietro che stiamo frenando bruscamente si attiveranno in questa stessa frenata sia le frecce sia gli stop in modo diciamo che lampeggia per effettuare questa codifica qua come sempre ci vuole il nostro wcds collegato alla macchina per effettuare questa codifica qua si fa in questo modo qua come sempre vi consiglio sempre andiamo a fare una piccola scansione di tutti i centrini della macchina in questo caso stiamo parlando di un audi a1 del 2015 quindi parliamo di una 8x perfetto facciamo la scansione della macchina io in questo caso come sempre già la faccio prima così da non evitare di fare il video un po troppo lungo una volta fatta tutta la scansione come semplice andiamo a cancellare i guasti e poi chiudiamo qua chiudiamo questa questa diciamo questo controllo qua andiamo nelle cintre in selezionare perfetto andiamo nella 09 questa qua attendiamo qualche minuto qualche stante che si legge la centralina andiamo in codifica codifica lunga e andiamo in byte 15 14 e 15 fatete un attimo no 16 scusate in byte 16 quindi ricapitoliamo centralina 09 codifica lunga e in byte 16 perfetto stesso qua già potete leggere lampeggio in casa di frenata d'emergenza per le luci del freno e la stessa cosa lampeggio in casa di frenata d'emergenza per le luci delle frecce attiva 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 perfetto una volta fatto ciò usciamo dalla codifica dalla cintrina stessa andiamo a codificare ciò che abbiamo appena fatto e quindi andiamo ad accettare quello che abbiamo fatto perfetto codifica accettata ok e che la codifica è stata appena effettuata usciamo perfetto e usciamo in questo caso la codifica è stata effettuata caso mai vi dovrebbe dare qualche tipo di problema qualche tipo di errore leggere bene quello che vi sta dicendo o quello che vi chiede così da non sbagliare ok ragazzi come sempre vi consiglio di iscrivervi al canale così da attivare la campanella così da ricevere sempre una nuova notifica di miei video condividete il video e volendo scrivete qualcosa nei commenti ok grazie ragazzi ciao al prossimo video buongiorno mirbio warto ил olla